ben ritrovati eccoci qui 8 e 34 ancora in diretta mattina con noi e allora anna maria tu pratichi sport tantissimo non è vero ne ne pratico pochissimo l'ho sempre detto vengo da una famiglia di pallavolisti ho un marito ho un marito non riesco a parlare stamattina che è allenatore di pallavolo quindi io non so giocare a pallavolo sono cresciuta con lo sport però io non l'ho fatto però è giusto dire che lo sport da sempre viene considerato una palestra di vita a me personalmente piace chiamarlo un palcoscenico della vita dove i giovani soprattutto imparano valori fondamentali come la lealtà e rispetto per l'avversario ma secondo me la cosa più importante proprio la mentalità che uno sport conferisce agli atleti una mentalità che poi permette di avere successo anche nella vita di tutti i giorni nella vita lavorativa proprio conferisce anche regole assolutamente un equilibrio e poi una disciplina che sicuramente influisce positivamente su tutti gli aspetti della nostra vita e noi oggi vogliamo parlare di sport e giovani con il nostro ospite una persona che dello sport ha fatto tutta la sua vita dedicato davvero allo sport tutta la sua vita ci colleghiamo diamo il buongiorno al professor andrea ligui docente di scienze motorie allenatore di rugby buongiorno professore buongiorno a tutti e grazie dell'invito grazie a lei per essere qui professore lo abbiamo detto adesso tante cose di cui parlare sicuramente giovani e sport è un binomio sicuramente vincente però parte a partiamo da lei da quanti anni lei nel mondo dello sport nel mondo dello sport io ho cominciato tardi almeno relativamente a quando si inizia oggi oggi si inizia a 45 anni a cominciare a fare uno sport di base io ho cominciato a 17 anni ma parliamo degli anni sono nato degli anni 50 fine anni 50 per cui una volta si si faccia sport naturalmente nelle strade nelle ville eh si superavano muretti raccionate si salivano sui si saliva sugli alberi oggi tutto questo è un po' decaduto anche perché è molto pericoloso eh giocare in questo modo nelle strade per cui non c'era la necessità che oggi invece hanno le famiglie di iscrivere i propri ragazzi in strutture eh istituzionalizzate e quindi avviare i piccoli allo sport adesso ci arriviamo il mio ingresso nello sport è stato appunto eh a 17 anni uno sport al all'epoca molto poco conosciuto il rugby oggi il rugby va è uno sport che va per la maggiore nonostante la nazionale eh maggiore non non ha non abbia grossi risultati almeno ultimamente nel torneo delle sei nazioni abbiamo preso schiaffi a destra e a sinistra e ci siamo risollevati solamente eh nell'ultimo torneo delle sei nazioni vincendo in Galles professore sì ma quando è che il rugby è ha iniziato a a funzionare diciamo così anche in Italia dieci quindici anni fa diciamo che eh il rugby ha avuto il suo boom eh dopo un grosso lavoro fatto dalla federazione italiana eh che ha cercato di ehm essere accolta nell'ambito del torneo delle cinque nazioni allora eh formato dalla Francia e dalle quattro britanniche eh per eh perché poi il torneo delle cinque nazioni che intasse eh Six Nations eh l'attuale appunto torneo che si fa tra febbraio e marzo eh e quindi diciamo dal duemila Italia è entrata questo torneo che è tra tutti i tornei di tutti gli sport il più antico solo che eh non abbiamo una grossa tradizione almeno rispetto alle altre nazioni per cui abbiamo ancora difficoltà ma questa difficoltà non viene tanto dal non essere a livello delle altre nazioni quanto da una mancanza di sport di base che è eh diffusa non tanto solamente nel nel rugby ma in tutti gli sport sport di base che dovrebbe essere eh svolto nella scuola e in questo noi siamo molto deficitari almeno rispetto alle altre nazioni. Lei però lei stessa ha giocato nella nazionale di rugby negli anni settanta quindi si è davvero avvicinato al mondo dello sport eh da giovane che ricordi ha di quel di quel periodo? Sì come ho detto io ho iniziato tardi però eh in qualche modo ho bruciato le tappe perché iniziando a diciassette anni poi ho fatto eh subito parte di una selezione regionale eh da lì eh il salto nella nazionale juniores quindi a diciott'anni e poi l'anno successivo il mio esordio in Polonia con la nazionale maggiore eh parliamo del settantasette e parliamo di anni se vogliamo pionieristici pionieristici rispetto al rugby di oggi eh una volta il rugby era veramente considerato uno sport di nicchia oggi eh grazie ai media è molto sviluppato ehm ci sono ehm cronache eh sportive e ehm implicano il rugby ci sono le partite eh soprattutto su Sky adesso anche sulla Rai eh per cui eh c'è molto seguito da parte del pubblico ed è uno sport considerato da tanti genitori come uno sport educativo. E da giocatore poi lei ha deciso di diventare allenatore. Cosa cosa l'ha spinta a prendere questa decisione? A cambiare rotta e quindi insegnare quello che lei sapeva? Ma diciamo che ecco la mia professione è insegnare eh io sono insegnante nella scuola, un liceo scientifico, una freddia azzarita di Roma e eh quindi insegnare a scuola così come insegnare eh su un campo da rugby o in qualsiasi altro ambito per me è stato un un passaggio abbastanza naturale e quindi eh l'instaurare un rapporto con i ragazzi dai bambini più piccoli agli adulti. Io ho allenato a squadre a tutti i livelli. È stato qualche cosa che che mi ha portato appunto a a relazionarmi con con questi ragazzi in maniera eh costruttiva, in maniera immediata ed è qualche cosa che io faccio molto volentieri anche oggi pur essendo abbastanza grande. E certo. Lei è chiamata il maestro nel club dove insegna eh la conoscono tutti con questo con questo soprannome. Come nasce questo soprannome il maestro? Sì appunto diciamo che ecco grazie alla mia esperienza ho sempre eh sono stato sempre considerato dagli altri abbastanza giovani come eh appunto l'esperto del della situazione e quindi eh capace anche di trasmettere qualche cosa non solo ai ragazzi ma anche agli altri allenatori. Per cui da da questo questo soprannome diciamo. Come dice lei professore ha deciso di passare al all'insegnamento ad allenare le squadre di rugby dai piccoli ai ai più grandi immagino fino alle scuole superiori, agli adolescenti. C'è un rapporto che che lega l'allenatore all'atleta. È un rapporto che va oltre lo sport e diventa proprio un 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 cicerone per la vita. È successo a lei di avere qualche atleta che le è rimasto nel cuore che ha aiutato anche oltre oltre lo sport? Dunque io sì ci potrei citare tantissimi episodi però un anno che io ricorderò sempre è l'anno in cui ho allenato bambini di cinque anni ehm bambini che chiaramente iniziarono a suo tempo ad affacciarsi al mondo dello sport appunto attraverso il rugby e a loro ho dedicato un libro eh crescere con il rugby diciamo la mia prima opera letteraria eh dove racconto un anno di un anno di sport quindi come si avvicinano questi bambini a questo sport eh le sensazioni le emozioni che vivono sul campo eh il loro primo allenamento la loro prima il loro primo impegno domenicale la prima trasferta mi ricordo di quella trasferta a Parma ehm bambini che non avevano mai fatto la doccia da soli se non con l'aiuto ai genitori per cui eh quella volta eh mi ero ripromesso che eh i genitori non sarebbero entrati negli spogliatori ma io insieme all'altro accompagnatore li avremmo eh accuditi perché la facessero e di questi bambini ne ritrovo oggi ancora ehm li ritrovo nella scuola in cui insegno e quei bambini del duemilaquattro che all'epoca avevano eh quattro cinque anni oggi sono in procinto di fare la naturità sono al quinto anno del liceo. Eh sì perché qui non si tratta solo di allenare eh si va al di là si tratta anche di educare e responsabilizzare dei bambini molto molto piccoli di cinque anni a quello che poi sarà la vita e quindi diventare sicuramente più più responsabili più autonomi. Quindi professore davvero complimenti perché io credo ecco il suo ruolo non si fermi lì ad allenare e a insegnare ma c'è molto di più dietro. Parliamo di allenatori che credono davvero in quello che fanno. Poi lei chiaramente anche un educatore visto che insegna nelle scuole quindi avrà questa forma mentis che la porta proprio a voler andare al di là del semplice allenamento. Mi corregga se sbaglio o se ho detto bene. No assolutamente però una grossa mano agli insegnanti agli educatori la devono dare le famiglie perché è molto importante che la filosofia dell'essere responsabili autonomi parta appunto dalle famiglie eh quindi facendo sì che favoriscano le attività motori del bambino. Prima si parlava di di gioco in strada. Oggi è difficile eh vedere eh come ho detto eh bambini che giochino che giochino liberamente in strada. Però il il genitore deve cercare di favorire l'indole del bambino quindi il volersi muovere l'esigenza di scoprire attraverso le attività motorie. Oggi eh la preoccupazione del genitore spesso è che non si faccia male piuttosto che fare qualche cosa e quindi magari si si relega davanti a una televisione davanti a un gioco ehm tecnologico piuttosto che fare giochi che ehm sviluppino la loro fantasia. Ne so parlo dell'ego, del meccano, giochi che magari un po' le sue di adesso oppure il semplice ritagliare o disegnare sicuramente qualche cosa di più costruttivo che non stare davanti a un computer o un tablet. Ne parliamo tanto di questo anche Anna Maria. Eh sì perché professore e ormai sappiamo benissimo che le nuove generazioni sono generazioni tecnologiche. Nascono con il cellulare in mano. Lo sanno usare più di noi sicuramente. Però è anche vero che bisogna utilizzarlo in un determinato modo e magari bisognerebbe aiutarli e indirizzarli verso quei giochi di una volta eh che adesso sono sono ormai dei sueti passati di moda. È un compito della famiglia. Però eh forse è un compito anche della scuola professore. A proposito di questo parlando di scuola dentro le dentro le scuole si fa abbastanza sport? Che tipo di sport si fa? C'è la possibilità da parte di uno studente di avvicinarsi a un determinato sport? Allora questo è un discorso molto lungo ed è un buco nero. Provi a riassumerlo professore ma a tempo ne abbiamo. E diciamo solo solamente adesso con l'ultimo decreto della legge finanziaria 234. Ho preso un appunto a proposito di questo caso mai me lo aveste chiesto. Solamente da quest'anno è stata introdotta l'attività motoria ma in quinta elementare. In quinta elementare noi parliamo di bambini già di nove dieci anni per cui bambini già strutturati dal punto di vista motorio. La cosa migliore sarebbe far sì che già dalla scuola dell'infanzia attraverso i maestri e maestre e già dalla prima elementare se non vogliamo appunto parlare di scuola dell'infanzia si facesse una pila di base. Quindi l'acquisizione di schemi motori di base quei quali correre, il saltare, il lanciare. Noi arriviamo invece a ragazzi nel liceo che non sono capaci di fare una capovolta o capriola come normalmente si chiama appunto dei ragazzi. E quindi diciamo il nostro nostro problema è molto prima. Poi il fatto di cercare di portare i ragazzi nel mondo dello sport deve avvenire già dalla scuola elementare se vogliamo che abbiano dei risultati. I risultati che vengono da persone che si avvicinano allo sport durante il liceo, durante la scuola superiore, è una percentuale bassa. Noi dobbiamo creare qualche cosa da prima e poi indirizzare magari in maniera più specifica i ragazzi ad uno sport più ampi. Ma è quello che manca è appunto la struttura motoria di base. Questo è quello sul quale bisogna lavorare. In questo noi siamo impreparati. Come ho detto prima, la preoccupazione è che i bambini a scuola non si facciano male, non che facciano attività. Per cui il bambino deve avere il suo naturale sviluppo motorio attraverso l'esigenza che ha di muoversi, di uscire dal banco e provare. Il bambino se cade si deve rialzare senza che il genitore o la maestra accorrano per aiutarlo a sollevarsi. Professore, lei parla della scuola dell'infanzia. Sappiamo che alcune scuole, alcune città soprattutto hanno dei progetti esterni legati ad alcune federazioni dove fanno attività motoria sin dall'infanzia, ovviamente a carico dei genitori. Sono progetti esterni a carico dei genitori. Ma sicuramente lei lo può dire meglio di me, lo sport, l'attività fisica è importante nella fascia d'età dai 3 ai 6 anni. Parliamo di psicomotricità proprio perché si possono notare e capire anche se ci sono problemi di coordinazione e quindi eventuali sviluppi di disturbi neurocognitivi, giusto? Esatto, sì. È proprio in questa età, è l'età critica in cui si mette a fuoco quelle che sono le potenzialità del bambino. Ed è in questo che lui deve maturare le esperienze motorie giuste, senza che vengano precluse queste possibilità. Io stesso ho lavorato per una decina di anni in una scuola dell'infanzia e facevo parte di un progetto ed ero pagato appunto dai genitori. All'epoca c'erano delle maestre che non erano proprio in grado di sviluppare questo tema e far sì che i bambini vivessero queste esperienze. Quindi è una generazione, quella della scuola dell'infanzia e quella della scuola primaria, in cui bisogna assolutamente lavorare e far sì che i bambini si formino, crescano e vivano le loro esperienze, anche facendosi male, ma lo devono provare sulla loro pelle, senza che poi quando sono più grandi li ritroviamo nella scuola superiore e troviamo delle problematiche che non sono state affrontate a suo tempo. Sì, per gestire determinate situazioni, grande insicurezza, in questo lo sport è molto formativo, se si fa fin da bambini. C'è stata chiaramente, lo ricordiamo sempre, una grande carenza di insegnanti di educazione fisica. Fortunatamente le elementari qualcosa si sta smuovendo. Si sta smuovendo, professore, però è anche vero che fino adesso sia l'infanzia che la primaria ha l'ora di attività motoria, ma è fatta dalle maestre di italiano o di matematica. Possiamo dire che è giusto che ormai passi la legge che il professore di educazione fisica, chi ha studiato per questo debba insegnare all'infanzia e alla primaria? Quest'anno è stata introdotta, ma nelle quinte elementari e non in tutta Italia. Però, come ripeto, è già tardi fare un'attività con un professionista a dieci anni. Questo tipo di attività va cominciato solamente prima. Allora, l'abbiamo anticipato, professore. Lei si cimenta anche nella scrittura. Vediamo il libro che lei ha appena citato. Questa è la sua prima opera letteraria, lo vediamo, Crescere con il rugby. Questo è stato appunto il suo primo lavoro dove parla del mondo del rugby in generale e come i bambini vivono questo sport. C'è un altro suo libro che è addirittura di uscita. Ecco, lo vediamo. Questo titolo credo si ricollega a quello che lei ha detto finora, la paura di farsi male e di cadere. È così che nasce questo titolo, l'attento che cadi, professore. Sì, esatto. L'attento che cadi è un'espressione retorica, così come non sporcarti, non correre. È la paura del genitore che viene trasmessa. Non sudare. Quindi noi attraverso queste espressioni, attraverso queste paure, non trasmettiamo libertà di espressione, ma trasmettiamo timore, facciamo sì che i bambini si muovano in maniera titubante. Quindi noi dovremmo essere bravi, noi genitori, a far sì che, come ho detto prima, i bambini vivano le loro esperienze. È chiaro che ci deve essere l'occhio del genitore, ma ci deve essere un occhio maturo, consapevole del fatto che la famiglia, così come la scuola, sono fondamentali nella crescita del bambino. Tempo fa ero in un negozio di sport e lo riporto come aneddoto nel libro. C'era una famigliola con una bambina alle prese con i pattini. Voleva che i genitori le comprassero i pattini. Il papà stava seduto tranquillamente, guardando anche in modo annoiato la scena della mamma che stava sorreggendo la figlia con i pattini, che provava ad andare sui pattini. Il papà quasi, diciamo, poco partecipe, non incoraggiava molto questa prima esperienza. No, lascia perdere, non è il caso. Allora, è chiaro che noi i genitori dobbiamo comprare i pattini ai bambini, ma dobbiamo pensare, sono in grado poi di aiutare mio figlio ad aiutarlo in questo percorso, nell'acquisire, nel saper cadere, nel rialzarsi, nel provare. Ho tempo da dedicare e quindi dobbiamo anche fare degli acquisti ponderati da questo punto di vista e cercare appunto di non scoraggiare, ma provare a comprare la bicicletta, a comprare i pattini, a togliere le rotelle e via dicendo. Professore, in questo libro c'è un capitolo dedicato ai luoghi comuni dello sport. Mi viene in mente, esiste ancora quello uno sport da maschio, quello uno sport da femmina? Insomma, noi da bambine la sentivamo, la pallavolo magari era ritenuto uno sport da femmine perché c'era Mila e Sciro e quindi si immaginava che fosse uno sport prettamente femminile. Oggi il calcio è diventato una dimensione molto femminile. Proprio ieri, Simone, professore, mi è successo di vedere una cosa. Era un centro sportivo calcistico e c'erano questi ragazzi, questi bambini di otto anni che si stavano allenando. All'interno della squadra su 20 atleti c'era una donna, una ragazzina che giocava insieme ai suoi amici, si allenava insieme ai suoi amici maschi. Quindi forse si è andati avanti rispetto a questo luogo comune. Sì, sicuramente si è andati avanti. Però ecco, a proposito, questo è uno sport femminile, questo è uno sport maschile. Ancora oggi a scuola c'è qualcuno che fa questa differenziazione. E allora è vero che i ragazzi nel liceo giocano più preferibilmente a pallavolo che non a calcio. Però ci sono ragazzi che giocano a calcio così come ragazzi che giocano a pallavolo. E' chiaro che poi la fisiologia della femmina e del maschio fa sì che magari le ragazze siano più portate a fare danza o a ginnestica ritmica che non rugby oppure un altro sport di contatto quale può essere il box. Però noi vediamo che poi c'è la squadra femminile italiana di rugby che attualmente è nel ranking mondiale in alto che non quella maschile. Il gioco del rugby femminile si può paragonare dal punto di vista tecnico assolutamente a quello maschile, se non superiore. Quello che cambiano chiaramente che cosa sono? Le capacità condizionali, quindi la forza, la resistenza, la velocità. Quindi forza e velocità le ragazze pagano un gap rispetto ai maschi. Viceversa nella resistenza le abbattono. Ma oggi ecco non si può più parlare di sport maschile. Eh no, direi che questo cliché debba essere abbattuto del tutto. Professore, rivediamo la copertina del suo ultimo libro. Attento che cadi. Quando esce, professore? È in stampa e uscirà tra breve. Diciamo entro la fine di ottobre, spero. Edito da? Belligraf, una società di cineta castellana. Perfetto. Professore, grazie per essere stato con noi, per averci aperto questa finestra sul mondo dello sport. Abbiamo sentito le parole da una persona che davvero allo sport ha dedicato tutta la sua vita. Quindi davvero complimenti per tutte le cose belle che fa. Grazie a voi, grazie dell'invito. Grazie, grazie mille professore. A presto. Buona giornata, arrivederci. E allora... Siamo ormai svizzeri, le nove in punto. Svizzeri e diamo la linea a Gigi Flash. Fatta l'informazione a tra pochissimo.